Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento E' come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi A ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà Se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati Quello che dico a voi, lo dico a tutti Vegliate E' come un uomo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati E' come un uomo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati E' come un uomo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati